Mi dovrei fare un po' di giri, sono rientrato, prima dei nonni che stanno al dentista che gli ho rimesso le dentiere, adesso stasera li portavo subito a cena fuori perché devono testare, ma guardate qui chi c'è, mamma mia che sguardo, guardatelo, 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 mamma mia, che uomo, ma mi assomiglia un po'? Che dentiere ti ha fatto, questo è il top, prova a parlare, prova a parlare, parla a sto cazzo, mamma mia che tentatura, fammi vedere, mamma mia, ma sembri un felino, beh basta che ti fermi, mamma mia anche che voce, hai il luco, le mani ne sta ferma, ma che dentiere bella, mi ha accendito che te il dolore, va senti, Spiedono al fassone, al fassone, al fassone, al fassone, mangi qualcosa di pollo, che hai fatto tu? Spuntature di trota, la mangi? La trota, la mangi? Io no, la trota c'ha il resto, non mangi la trota io? Spuntature di maiale? Capriola al rosso, un salmì, baccalà e aggiuntura di... Stasera è da provare i denti, eh, mi raccomando, come puoi provare? Fa così? Meglio, meglio. Mettile un buon dito, vai. Vai. Belli però bianchi, sembri quasi, sembri quasi un californiano, fa vedere, fa così? Fa così? Mamma mia che ghigno. 1,50, 1,50. Ma chi? Fermate Federico, mi fanno cazzare. Giusto sta bosse mia. No, no. E allora, stai, ma meggio a Cristo. E mi ha messo a rompere i denti, la città. Oh, no. Ma quanto stai ciancicato? Eh? Guarda come... Ma hai sentito che dice? E' sempre incazzato l'amico mio. Eccoli, i scenditori. Eh o no? Hai mangiato? Oh. Mmh. Hai mangiato? Eh. Ecco, guarda. Non è, non sopporta più, lascilo. Trova un miliardario dei 97 anni, anche dei 100. No. Me la racconti una storia dopo? E come no? Me la racconti o no? Sì, sì. Che storia mi racconti? Sì, la storia dei fulcinetti. Eh, me la racconti o no? Sì. Beh, c'è qualcuno che si è buffato. Ma io già lo so chi è. Secondo me ha provato i denti. E poi dopo ha provato il bagno adesso? E poi ha provato il bagno con il famoso limone. Sempre attaccato dietro. Chissà se funziona. Ma niente, è assente. Adesso sentiamo se funziona. In che caso mai c'è un tappo quello Don Perignon 56, eh? Adesso una sappa. Non sapevo. Volevo sapere una cosa, Pederista, ti è stata a provare i denti. Sì, ma il passaporto ce l'aveva là. Ah, vedi che ha provato i denti. E dopo se ti è corso al bagno che ci avevate la diarrea? Adesso... 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 No, ha detto... Ha detto no, mi sei raddrizzato. Ma che? Ma che? In Londra. Il pelo? Il pelo. Ossia, racconti una storia. Il cazzo dopo che ha detto, ti dice che tutto è stata tappa. Ma che c'è una storia? Ma che c'è una storia? Una storia di quelle tu, quando andavi via quell'autotreno. Quella? Quella che il vigile ti voleva fare la multa. Ma... Ma che faccio fare? Mi la fome. Ma questo è l'incendiario. Questo... Questo è il capo. È della Sisis. Dio buono. Guarda che dentatura, mamma mia. Guarda che dentatura che ha provato la dentiera nuova stasera. Guarda come ride. Sto pappataceo. Perché? Ha smadonnato, ha smadonnato. È vero che oggi ha smadonnato, ha detto qualche bestemmiuccia, sì. Ci vuole una benedizione. Ci vuole una benedizione. Vai, vai. Benedicus vobis impotentis Deus, peccatoribus, bestemmiorum, cincillorum... No. Non ti affanculo. No. Al bar col cincillà, no. Mannaggia, la magliata. Eh, mi cercavi, hai chiamato? Ma ti ho sciacque di coglioni. M'hai chiamato o no? No. E che hai fatto? Eh? M'hai chiamato? No. Ho sentito Federico da sopra? No, no, non ti ha chiamato nessuno, vabbè. Io ho sentito il nome mio. Mannaggia, la puttata. Arconti mi ha una storia. Sì, dai. Dai. Va via, va via, va che senti caldo. Me la racconti una storia, quella del motoscafo bello? Ma che storia dove ha raccontato? Senti, anche nonna ha detto Arconti, quello del motoscafo bello. Sì, fai le febbre con le mani. Me la racconti o no? Aaaaaah.